Quando il tuo bambino viene al mondo, è la sua salute che ti sta a cuore. Oggi un test semplice e non invasivo identifica alcune malattie genetiche metaboliche rare già nelle sue prime ore di vita e permette di intervenire immediatamente. Si chiama screening neonatale esteso e può salvare la vita al tuo bambino. Grazie.